Start, 2, 1, missione e liftoff! Da quello che era il primo capitolo? Beh, prima di tutto è uscito il 20 di settembre, non costa prezzo budget come costava il primo, ma parte dai 44,99€, la Deluxe a 74. E non è solo questo il punto, la Deluxe vi comprende però i 3 DLC che usciranno successivamente a pagamento, un oggetto di gioco, un racconto in versione digitale, l'artbook e la colonna sonora, quindi sono comunque 30€ in più per dei contenuti e anche un sostegno agli sviluppatori. E non esce in early access come uscì il primo capitolo, ma esce già come gioco fatto e finito. È un pezzo da doppia o tripla A ed è un gioco che, come vi dicevo, è diverso dal precedente. Io non lo padroneggio, non vi insegniamo a giocare, vi voglio solo far vedere che il gioco è strutturato in capitoli, ce ne sono il prologo, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5. Sarebbe un grande sbaglio iniziare dal capitolo, dal prologo, perché il gioco è profondamente diverso. Qua ci sono i livelli di difficoltà e quello che si fa nel gioco del prologo è una meccanica che è leggermente diversa da quello del gioco e secondo me tanti lo hanno giudicato male appunto da questo. Adesso vi dico, questo non è come vi dicevo un tutorial, ma è una chiacchierata che facciamo così, liberamente. Quello che vi fa fare il prologo, a parte che ci sono dei video bellissimi e anche una presentazione da film, quando iniziate poi soprattutto il capitolo 1, è una storia, una storia dovrebbe essere alternativa. Insomma, la città col generatore al centro che abbiamo visto nel primo capitolo è sopravvissuta per decenni, fino ad affrontare una crisi, questa. Questa qui praticamente è una crisi che dobbiamo risolvere, cioè abbiamo dei cittadini, abbiamo la forza del lavoro, abbiamo i rottami che sono la valuta di scambio, i prefabbricati, è tutto diviso così. Praticamente abbiamo il cibo, il riparo e quello che dobbiamo fare è spendere i crediti che abbiamo, i rottami, per andare a rompere il gelo in alcuni punti, vedete? Noi abbiamo questi punti scavabili e andando a scavare in alcuni punti raggiungiamo dei vagoni di petrolio e in questo caso una volta che avremo selezionato un tot di aria, manderemo gli spacca ghiaccio che sono i nostri nomadi in giro a scavare. Una volta fatto costruiremo il distretto di estrazione, lo faremo sul petrolio, lo faremo su tutto quello che è un vagone di manutenzione che ci dà i materiali, lo faremo sul vagone per le edilizie che ci dà i prefabbricati, andremo poi a costruire un altro quartiere che è quello alimentare sopra questi, che sono i terreni fertili e il distratto residenziale lo faremo su altri terreni ancora, che faremo qua intorno a questo residuo, diciamo, del vecchio generatore. Questa è la meccanica base che ci presenta il prologo e questo ci può forviare come ha forviato, secondo me, tanti giocatori. Perché hanno detto, no, ma non è bello come... E in effetti, quando l'ho provato, non l'ho trovato proprio bellissimo. Ma io avevo visto anche delle live di altra gente, perché questo è il capitolo 1. Abbiamo la città, a differenza del primo, e qua delle differenze ci sono e sono ben evidenti, non abbiamo più una visuale molto ravvicinata con tutte le persone che vediamo camminare in giro. Non è il classico gioco alla Fartest Frontier, dove creiamo la nostra città, la nostra immagine e somiglianza e pian piano ricostruiamo rendendo tutto più logico. Resta quella base di costruzione che c'era nel primo. Allora, abbiamo sotto le fazioni, perché all'inizio eravamo tutti nomadi, abbiamo sistemato le nostre problematiche, abbiamo la nostra città fatta e finita con le divisioni delle fazioni. Quello che io ho fatto in questa città è costruire questo edificio qua, che vedete adesso innevato qui, ma non c'era prima, ed è il consiglio, ed è una meccanica che hanno introdotto molto molto bella. Adesso vi faccio vedere, poi vedete anche i commenti della gente sotto forma di fumetto, quando decidete qualcosa fate qualcosa. È un gioco che si basa molto sulle decisioni. Nel primo erano decisioni personali, qua si basa tanto anche sulla proposizione di leggi nel Parlamento, adesso ve lo faccio vedere. Pensate che sulla falsa riga invece del primo, nel prologo, io ho sacrificato gli anziani. E sacrificandoli ho salvato la mia partita, ma ho perso la forza lavoro per usare gli spaccaghiacci, quindi intorno non sono più riuscito ad andare. È giocabile anche la modalità sandbox senza missioni, senza tutorial, senza nulla, ma quello lo si fa quando si è più esperti. Ora avremo sempre questo. Il gioco ci dice, spacca il ghiaccio sopra un filone di carbone poco profondo e costruisce il distretto di estrazione. Quindi qui abbiamo la possibilità di usare lo spaccaghiaccio e andare a scavare un giacimento di carbone poco profondo. Abbiamo la foresta ghiacciata, la rovine abbandonate, abbiamo questa che è una risorsa infinita, materiali, abbiamo del terreno fertile, abbiamo un porto qua, sembra una stazione, anzi più che un porto. Non so onestamente dove sia il... Vediamo materiali, 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 distretto logistico. Poi, vabbè, al centro non ve l'ho fatto vedere, prima ci sono i centri. Prima avevamo solo il centro della scorta alimentare nel prologo. Qua invece ce ne sono diversi. E qua possiamo fare delle sorte di magazzini. Vediamo se possiamo... Ecco, dovrebbero essere qui. Filone di carbone poco profondo. Quindi io adesso prendo il mio fido. Ah, è qua. Vado e scavo. Posso scavare anche qua, rovine abbandonate. No, scaviamo queste. Quindi io scavo qui, qui, qui e qui. Facciamo questa bella zona amplia qui. E loro andranno e scaveranno. Questi sono invece degli eventi. E cliccandoci partono. Ed eccolo qua. È crashato il gioco prima. Non so il perché. Comunque qua abbiamo la prima sessione del consiglio. Allora, io ho costruito il palazzo del consiglio, che vi ho fatto vedere prima. E praticamente qua possiamo andare a affrontare il consiglio. Vedete? Questo è il consiglio. Ci sono queste scene animate molto belle. Sarà possibile andare anche a influenzare le varie fazioni. E la sessione del consiglio, la prima, perlomeno, segue molto un filone politico. Perché devono approvare. Qua, vabbè, possiamo proporre nuove leggi. Però ci serve il voto speciale. Deve accettarti come il loro leader. La fiducia del governo, in pratica. Quindi, vedete che sono a nostro favore 22, titubanti 74 e sfavorevoli 4. Quindi possiamo andare. Siamo tollerati. Noi possiamo andare a vedere le fazioni che ci sono all'interno del Idomaghiacci, che sono qui. Abbiamo i nuovi londinesi. E abbiamo gli assertori. E vedete, possiamo andare a vedere anche ogni singola persona. Quello che fa. Quali sono i suoi hobby. Insomma, i suoi successi. Quello che stanno facendo. Arriva sempre 5 minuti in anticipo. Insomma, vediamo un po' la personalità di ogni persona. In questo caso, noi andiamo a fare il voto o negoziare. Perché possiamo influenzare i delegati facendo delle promesse prima di iniziare la votazione. In questo caso, noi andiamo a votare. E questa è fondamentalmente la grande novità di questo gioco. 22 a favore. E' bellissimo la votazione. Quando dal... Ci servivano 51 voti. Ne abbiamo ottenuti 61. E hanno approvato il nostro governo. Ora, a questo punto, possiamo anche andare col tasto 3 ad accelerare. Non si fa mai in questi giochi, però. Mentre abbiamo scavato fino qua. Ora, possiamo andare a costruire, non l'istituto di ricerca, ma possiamo andare a costruire il... Dove cavolo è? Costruisci un distretto di estrazione, che è qua. Distretto logistico, industriale ed estrazione. Quindi, estrazione, vedete, lo mettiamo qui, qui, qui. Facciamo tutto qua, costruiamo e loro andranno a costruire pian piano. Ci sono un sacco di cose, non è geometrico il gioco, cioè si adatta molto all'ambientazione. Qua abbiamo un modo di fare il residenziale, con le abitazioni, che dovranno stare il più vicino possibile al riscaldamento. Il distretto alimentare sui campi coltivati, coltivabili. Il distretto industriale, che praticamente ci permetterà di... Vedete qua, adesso ci sono i buoni calore, non ci sono più i rottami. Perché i buoni calore sono dei buoni che noi diamo alla popolazione in cambio di lavoro, cioè praticamente la moneta. Ci sono i prefabbricati, invece questi restano invariati. Ci sono i nuclei, abbiamo tante cose che non abbiamo ancora e che il tutorial pian piano ci andrà a presentare. C'è un tutorial molto ricco, per quanto le immagini siano in inglese, il gioco è completamente in italiano, tranne il doppiaggio. Adesso qua stiamo costruendo, a breve vedremo che finiremo la costruzione di questo giacimento qui. Ok, accelero. E tra l'altro, interagendo con le fazioni nuove londinesi, gli assertori e questi, abbiamo un modo di farci gli amici o meno. Dipende da quello che ci serve. Abbiamo la possibilità di guadagnare fiducia o chiedere dei favori. Chiedendogli dei buoni calore. Loro perdono relazione con noi. Abbiamo gli assertori. I domaghiacci dovrebbero essere quelli che credo scavino con i spacca ghiaccio. Gli assertori, vedete qua, sono 3450 membri. E sono, credo, i cittadini quelli più di rango basso. 950 gli assertori sono favorevoli, qua vediamo, sono neutrali. Gli assertori sono della nostra. E quindi possiamo mobilitare i gendarmi. Schiederanno delle guardie. E quindi andremo a potenziare le pattuglie in caso di disordini. La fiducia. Quindi, come prima, concedere un programma di una legge. Abbiamo promuovere in consiglio. Non so cosa serve effettivamente. Io annuncio da governante che sostengo questa fazione o condannarla. E poi chiedergli favori. Stessa cosa degli altri. Mentre invece abbiamo questi, che sono i nuovi londinesi. Sono 3600. Anche qui possiamo raccogliere i fondi da loro. Deradicalizzare. Ah, no, no, no. Va bene. E queste sono le novità che hanno introdotto con questo gioco. Adesso, vedete, stiamo completando. Uno dei problemi che affligge questo titolo, ma io non ci sono arrivato, è al capitolo 3 quando il gioco diventa più pesante. Però, allora, viene venduto a un prezzo superiore, al prezzo budget, quindi uno potrebbe dire eh, però, lo vendono facendo i grandi, però ha problemi. Così è. Verrà risolto? Probabilmente, quasi sicuramente, sì. Ora andiamo ad accendere il generatore. E qui diventa una delle cose più belle da vedere. Questo gioco. Possiamo anche sovralimentarlo. Ok, abbiamo acceso il generatore. Il generatore si sveglia, è nato un bambino. Si raccoglie attorno alla torre del generatore, mentre adesso si sveglia con un sussulto tonante. E torna a concederci il suo calore. Questo è il cuore della città. C'è una coppia che dice che è il loro primo genito. Ok. Praticamente noi abbiamo anche la possibilità di... Che so, nel prologo avevo trovato un insegna sotto il ghiaccio. E io potevo dire, vuol dire ordine, oppure vuol dire fede. E nel caso di fede seguivo l'insegnamento precedente, quindi la fede che ci salverà dei ghiacci, io ho risposto ordine e lì va a cambiare un po' la mentalità della gente. Comunque il generatore l'abbiamo acceso. Come vedete non si vedono persone in giro. È un po' un peccato. Però si vede tutto, molto... Tutte queste luci che passano è un po' come fossero la popolazione che gira con le torce a tempo accelerato. Perché alla fine così è. Passano i giorni molto velocemente. Sei vengono registrati come malati, perché abbiamo ancora un sacco di problemi. Non abbiamo cibo, non abbiamo... Costruisci nuovi distretti e residenziali per risolvere la carenza di riparo. Perché ne abbiamo comunque parecchi, ne abbiamo 8.000 e dobbiamo piazzarne. Quindi costruisci distretto, distretto residenziale e lo costruiremo qui, presumibilmente. Devo farne due, quindi ne facciamo un altro anche di là. Però non mi cancelli quell'alt. Eh no, me lo cancello a sinistra. Vediamo se riesco, non riesco... Qui è la zona piena, quindi... Pensiamo lì. Lì è là. Accelero il tempo e vediamo... Costruiscono... Però il colpo d'occhio, per quanto scriptato su determinati percorsi già preimpostati, è molto bella. Abbiamo ottenuto un nuovo giacimento di carbone che appartiene all'ultima vena di Nuova Londra. Sono rimasti altri giacimenti. Perché nell'1, ricordate, c'era la mongolfiera, ma andavamo la gente fuori. Non nego che possa diventare così anche qua. Però, vedete che adesso, qua, abbiamo delle zone riscaldate anche lì. Espande in distratto residenziale esistente. Costruisci un istituto di ricerca. Studia un'idea per le nuove miniere di carbone. Non ho idea di come fare un'idea di carbone... Una miniera di carbone. Comunque, costruisci edifici. Vedete, possiamo fare l'istituto di ricerca. Quello lo andiamo a piazzare però fisicamente all'interno della città. Non so dove, perché qua c'è il Parlamento. Istituto di ricerca. Non saprei dove piazzarlo. La musica è bellissima. Non posso piazzarlo. No, eh. Non abbiamo... Costruisci un istituto di ricerca. No, posso espandere questo. Vedete che abbiamo fai zoom sul distretto. Eh, qua si vedono le persone. Molto bella la cosa qua. Sì, qua si vedono. In effetti. Amplia il distretto. E aggiungo uno slot edificio. Ah, bellino. Però non posso. Perché non posso? Lo voglio fare di qua. Perché... Ho spazio già scavato. Posso farlo solo lì? Basta. Eh, no. Non si può. Non si può. Allora, vediamo. Tanto moriremo malissimo. Prendovi. Spacca ghiacci. Faccio spaccare un po' di ghiaccio qui. Così ci avviciniamo anche a queste zone qui. E via. Celera un po'. Così vediamo. Stiamo un pochino sperimentando. Perché volevo fare giusto una brevissima presentazione del gioco. con le differenze in pratica che più mi hanno colpito. Ok. Espandiamo questo. Adesso acceleriamo. Vedete che sta aumentando qua. Ma non... È aumentato uno slot edificio. Ora posso fare l'istituto di ricerca? Sì. Perché vedete che c'è lo spazio qua. Che mi dice posso metterlo lì. Lo metto lì. Lo costruiscono. E a breve verrà ricoperto di neve pure lui. Credo. Ora possiamo sviluppare nuove idee. Albero delle idee. Questa mi ricorda una famosa pubblicità anni 90. Ma non la citerò. Ok. Qua cliccando abbiamo. Mostrami. Le nostre opzioni. Praticamente dovrebbe aprire le ricerche. A livello di riscaldamento. Risorse, lande ghiacciate, città, società, poli. Eh mannaggia eh. Minere di carbone. Minere di carbone. Minere di polverino di carbone. Studia idea. Possiamo studiarla? No. Studia un'idea. Eh sì. Dovrebbe studiarla per forza di cose. Però un'idea. Quindi. Nuova legge disponibile. Possiamo andare a scegliere una nuova regola. Nessuna norma condivisa. Vediamo un po'. Nessuna regola comune. Regola comune. Beni durevoli. Ci concentreremo su produzione di beni resistenti facilmente riparabili per sfruttare meglio. Sono d'accordo. Appoggiata da idomaghiacci. Queste invece ha linee di produzione in modo da aumentare la produzione dei beni per superare la penuria. Facciamo questi che durano di più. Beni proc... No. Io propongo questa. È più a rischio. Però la propongo. E la negozio. Negozio con... E controllo della visione del mondo. Ah. Gli asserrattori. Domaghiacci. Parzialmente disponibile. Principalmente sfavorevoli sono i nuovi londinesi. Le mie condizioni. Voi mi date il voto favorevole. E io gli do in cambio... Alle loro condizioni. Ok. Loro gli hanno il voto favorevole. Io dovrò studiare i turni incentrati sulle macchine. Sì, perché è quella che mi richiede meno cose. Accetto. Perfetto. Signori, andiamo al voto. La nuova legge. Per i beni duerevoli. Si illuminano. The delegates have spoken. Have spoken. Bene. Bene. Entrata in vigore. Ecco. Ok. Questo in sintesi è... Vabbè. La mappa vista dall'alto. E con il proseguo poi delle varie cose che succedono. Il generatore venerato e rispettato. Perché praticamente vedono anche come sorta di divinità questi... Comunque no. Le persone si vedono effettivamente. Però andando a fare lo zoom sul distretto, si vedono anche all'interno. Voglio vedere se si vede qua. Perché potrebbe essere una bella cosa. Fai zoom sul distretto. Le persone... Zoom... Per modo di dire perché... No. Vorrei far così. Vediamo se me lo muove. No. Mi fa vedere solo il centro qui. Niente di che. Però vedete che c'è l'edificio. E il Parlamento è qua. È questo qua. Era più innevato prima quando era spento il generatore. Cioè il colpo d'occhio è pazzesco. Senza dubbio. Costruisci... Presso il distretto di estrazione. Ok. Siamo sul distretto di estrazione. Possiamo costruire... Non so come si fa. Ah, lo costruiamo qua. Edificio. Abitazioni. No. Devo fare qua. Ah, devo ricercarlo però. Devo ricercarlo. Devo studiare l'idea. Quindi praticamente dovrà premere su... Sì, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Ricerca in corso. Appena l'abbiamo costruita, abbiamo ricercato, la costruiremo nel distretto di estrazione. È questo. Ragazzi, io spero di avervi dato un'idea un pochino diversa da quella che magari si vede online, cioè o la recensione, la recensione vera e propria, oppure il classico gameplay dove uno lo gioca senza saperlo giocare. Io non lo so giocare ma ho voluto un pochino presentarvi le cose, scoprendole anche alcune insieme a voi, mostrandovi quello che ha di diverso questo Frostpunk 2 rispetto al primo, parte politica che io apprezzo veramente tantissimo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima. Ciao ciao!